un nostro segnalatore ci ha fatto notare all'uscita di uno svincolo della superstrada la presenza di bottiglie di plastica contenenti un liquido di un colore che ricorda una bevanda al tè buttato lì a bordo strada da una veloce indagine scopriamo che come dice il nostro segnalatore non si tratta di tè ma bensì di urina avete capito bene urina veniamo a sapere che è una delle pratiche più antiche del mondo in uso ai camionisti motivo risparmiare sulle soste e quindi guadagnare tempo e rispettare così gli strettissimi tempi di consegna facendo più chilometri possibili nelle otto ore di guida consentite dal codice della strada questa inusuale pratica ci viene confermata anche da chi pattuglia strade ed autostrade in lungo in largo confermando che è una pratica ben conosciuta e che comunque il codice della strada non lo vieta come risulta anche da una delle inchieste effettuate su quotidiani nazionali spesso nelle cabine dei tir si trovano oltre alle bottiglie dell'acqua minerale anche quelle del latte bianche e opache ma con un'imboccatura ben più grande e che ovviamente agevola l'evacuazione estemporanea che il camionista sia uno dei mestieri più duri al mondo ormai è un fatto assodato e oltre al sonno e alla routine un altro drago da sconfiggere per il camionista del giorni d'oggi sono i tempi di consegna l'orologio è sempre stato diciamo il nemico principale del camionista nella bottiglia io intanto che vado non è mai successo io sono 40 anni che faccio l'autista se qualcuno lo fa io spererei di no perché vuol dire che ci siamo messi male molto ovviamente per pudore o corporativismo i diretti interessati nicchiano sull'argomento spostando la questione più che altro su una leggenda metropolitana anche il tempo ormai è diventato sempre più stretto ma scavando e riscavando anche nella rete viene fuori che non è solo un problema dei camionisti quelle della lotta al tempo eliminando le soste per fare plin plin su un articolo apparso sul daily mirror anche i fattorini di amazon ammettono che costretti dall'algoritmo per guadagnare minuti preziosi prendono le bottiglie di plastica e la fanno nel loro veicolo ma se proprio cari amici trasportatori non avete cinque minuti di tempo per le vostre esigenze corporari la tecnologia vi viene incontro con appositi utensili più consoni della bottiglia di plastica che comunque evitate di lanciare dal finestrino come immembre segno del vostro passaggio